Buongiorno, ben trovati appuntamento di mercoledì 6 luglio 2016 con la nostra consueta rassegna stampa che apriamo come sempre con il Santo del Giorno. Oggi viene ricordata Santa Maria Goretti dalla Chiesa Cattolica. Il 16 ottobre del 1890 Corinaldo, la terzo genita Maria, veniva a rallegrare con i suoi vagiti la povera e laboriosa famiglia dei coniugi Goretti. Ebbe una buona e cristiana educazione da genitori esemplari, divenuta orfana di padre ancora in teneretà, aiutò la mamma, fu custode vigile dei fratellini, contribuì alla loro educazione cristiana, si applicò a sbrigare la maggior parte delle faccende domestiche. Il 16 giugno del 1901 Marietta con gioia indescrivibile si accostò per la prima volta alla mensa dell'agnello immacolato. A soli 12 anni per il precoce sviluppo era divenuta una giovinetta che si distingueva per la sua semplicità e per la purezza angelica. Con i Goretti coabitava un giovane Alessandro Serenelli, costruì divenuto orfano di madre quando ne aveva maggiormente bisogno. Era di carattere chiuso e solitario. Il vizio dell'impurità fomentato dalla lettura di stampe pornografiche aveva guastato il suo cuore per due volte. ebbe l'ardire di tentare Marietta. Il 5 luglio del 1902 nell'Aia adiacente il caseggiato il lavoro agricole ferveva come sempre. Alessandro montò su un carro, era serio e preoccupato ad un certo punto con un pretesto qualsiasi. Lasciò la guida del carro a mamma assunta. Salì in fretta alle scale ed entrò in casa. Sul pianerottolo Marietta stava rammentando una camicia. Passati alcuni istanti riapparve sull'uscio e disse Maria vieni dentro. Maria non si mosse. Il suo cuore innocente presagiva e tremava. Alessandro allora invaso da satanico furore. La prese per un braccio e trascinatala brutalmente dentro. Chiuse la porta con un calcio. La giovinetta si trasformò in lottatrice coraggiosa e intrepida. Al seduttore gridò no, no, Dio non vuole. Che fai Alessandro? Non mi toccare. È peccato. Tu vai all'inferno. A nulla però valsero queste sante parole. Anzi la passione si tramutò in odio e impugnato un coltello la trapassò 14 volte lasciando a terra la martire tramortita. L'uomo gridò contro i vicini e poi la mamma assunta nel vedere la sua Marietta così ridotta si preoccupò e capì che rimanevano alla bambina e alla giovane poche ore di vita. Non un lamento però uscì dalle labbra della santa martire nelle lunghe 20 ore di agonia ma solo preghiere negli ultimi istanti di vita. Anche parole di perdono per il suo uccisore. Sì lo perdono, lo perdono di cuore. Spero che anche Dio lo perdoni perché io voglio con me in paradiso. Santa Maria Goretti che viene ricordata oggi dalla Chiesa Cattolica, questa giovane santa che viene ricordata proprio nella giornata del 6 luglio. Noi apriamo come di consenso la nostra rassegna stampa con le prime pagine del centro. Partiamo dall'edizione di Pescara per vedere i titoli principali e si parla di amministrazione comunale. Vedete il titolo di apertura, il comune assume 19 stagionali, servono vigili operai ma i contratti sono per pochi mesi. Poi la fotonotizia, il calciomercato, Pescara protagonista in questi primi giorni. Pescara che ha ingaggiato l'attaccante interista Manai che vedete nella foto. Ovviamente bisognerà attendere dei giorni per la ratifica del contratto. Giocatore fortemente evoluto da Massimo Oddo. Poi le cronache, ma allora improvviso a Montesilvano turista muore nella piscina di un hotel. Poi a Francavilla al mare banditi armati assaltano il bar per pochi euro. Poi le iniziative anti-racket a Montesilvano, prostituzione, salvate 10 ragazze. E poi tornando a Pescara vuole i soldi. Picchia la moglie, violenza in famiglia per giocare alle slot machine. Denunciato un uomo. E siamo, dopo aver visto la prima pagina del centro, edizione di Pescara, andiamo a vedere l'edizione di Chieti, Lanciano, vasto. Anche in questo caso i titoli principali. In questo caso si parla di sanità. La legionella in tutti i reparti. Chieti all'Arme Rosso in ospedale. Da oggi scatta la mega bonifica. E poi i due titoli che riguardano lo sport in alto. Lanciano ore cruciali. Chieti gli ultra contro Pomponi. Vedete nella foto, nella prima foto, l'amministratore delegato del Lanciano, Guglielmo Maio. La sorella, Valentina Maio, presidentessa della Virtus Lanciano. Sono ore importanti per il calcio frentano. Entro domani bisognerà regolarizzare l'iscrizione al campionato. Ma si parla anche, lo vedremo poi nelle pagine interne, anche della possibilità dell'ingresso di alcuni dirigenti che possano anche, potrebbero anche rilevare l'intero pacchetto societario. Poi ieri invece a Chieti c'è stata la conferenza stampa di presentazione del nuovo staff tecnico e dirigenziale. E a un certo punto, durante la conferenza stampa, sono arrivati i tifosi del Chieti che hanno chiesto risposte importanti alla proprietà, di fatto interrompendo, come vedete anche nel titolo, interrompendo la conferenza stampa. Poi le cronache, tutti assolti per le assunzioni in provincia, siamo a Chieti, sempre a Chieti ferie forzate per i dipendenti di Paglione. Poi a Basto spaccia droga nei giardinetti, incastrato. Poi Nuova Carichieti si cambia, via in Mordino arriva delle femmine alla vigilia della sentenza. E siamo alla prima pagina del centro, edizione di Teramo. Poi chiuderemo, come sempre, con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. In questo caso l'apertura riguarda la cronaca giudiziaria. Mazzetti, giudizio dirigente Anas, è accusato di aver chiesto 9.000 euro ad un imprenditore terramano. E poi il controllore chiede il biglietto sul bus e viene preso a pugni. È accaduto lungo la tratta Pescara-Giulianova su un autobus della tua ex Arpa. Vedete il controllore con il collare. Dopo l'aggressione subita, poi vedremo nel corso di questo appuntamento, con Mattino 6, un servizio proprio su questa vicenda. E poi le cronache, la sede del Braga, Valente, Parco della Scienza e Davedere. Invece poi si parla di buche e frane dalla costa Civitella. Strada dissestata. Giulianova accorpati, invece, due reparti dell'ospedale. Tornando a Teramo, Ruzzo, Forlini sotto attacco. Di Sabatino stronca il bilancio, anche a nome di Tancredi. Parliamo, dunque, delle polemiche che riguardano il Ruzzo. E chiudiamo, come detto, con la prima pagina del centro, edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Poi inizieremo, daremo uno sguardo anche alle pagine interne, vedremo anche i quotidiani nazionali, le prime pagine dei quotidiani nazionali, oggi in edicola. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di L'Aquila, trovata morta nel bagno di casa. Siamo in Marsica, a Trasacqua, a scoprire il corpo senza vita della 44enne. È stato il figlio. E poi i giovani tedeschi in preghiera a donna e a filetto, omaggio alle vittime del nazismo. Poi le cronache. All'Aquila, a Puntellamenti, la Dipe resta commissariata. Festival della partecipazione. La città è pronta e poi a Sulmona tace in udienza e da parte civile diviene imputato con l'accusa di estorsione. Poi Avezzano cerca la moglie e picchia la zia, non voleva dirgli dove si trovava la consorte. Lasciamo dunque le prime pagine del centro. Abbiamo visto le prime pagine delle quattro edizioni. Andiamo a vedere ora invece i titoli dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Poi nella seconda parte, come sempre, vedremo anche le pagine del quotidiano La città di Teramo. Parliamo e partiamo dal Corriere della Sera. Così controllavano le indagini. Si parla dell'inchiesta che riguarda alcune presunte tangenti a Roma. Un attimo che andiamo a visualizzare il nostro giornale. Vediamo un attimo se possiamo vederlo. Eccolo qui. Così controllavano le indagini. Nelle carte le richieste al ministro Alfano. Uso politico della giustizia, ha detto il responsabile del dicastero degli interni. Poi vedete a centro pagina la foto tra Obama e Hillary Clinton. È in pieno svolgimento la campagna elettorale per le presidenziali. In una delle prime volte appaiono insieme l'attuale presidente e quello che potrebbe essere il futuro presidente degli Stati Uniti. Andiamo avanti. Siamo al quotidiano La Repubblica, banche, terremoto Monte dei Paschi, il tesoro, pronto lo scudo, titoli a picco, in borsa imminente un accordo europeo anti-speculazione. Poi vedete a centro pagina così è morto nel cuore di Roma il giovane americano di 19 anni che sarebbe stato lanciato da un ponte nel fiume Tevere. Per questo è stato fermato un quarantenne senza tetto romano che deve rispondere del reato di omicidio. Siamo al quotidiano Il Fatto Quotidiano. La cricca renziana e alfaniana voleva controllare i PC dei PM, questo è il titolo. Con l'aiuto di Carbone puntavano a Legnini, Orlando e Carrai. Quest'inchiesta che abbiamo visto anche dalle pagine degli altri quotidiani che ha creato Scalpore. E poi in alto invece si parla di politica, in questo caso di politica romana, la giunta raggi è pronta, l'uomo Consob al bilancio. E siamo al quotidiano, la stampa di Torino, crollano i titoli delle banche, ecco il piano per salvare il Monte dei Paschi. Poi vedete nella foto a Roma per studiare, morte con giallo. Si indaga, come detto, per la morte di questo 19enne studente americano. E poi di spalla, Dacca, fermato il professore dei kamikaze, erano suoi allievi. Ovviamente grande sconcerto per questa tragedia avvenuta a Dacca. Ieri c'è stato il rientro in Italia delle salme delle vittime, nove italiani morti in questo attacco kamikaze a Dacca in Bangladesh. E siamo al quotidiano in messaggero, tangenti nei ministeri, 24 arresti, Roma nella rete, altri 24 indagati per corruzione e riciclaggio, fra cui il deputato del nuovo centrodestra Marotta, iscritto anche un ex sottosegretario, legami con altissime cariche tra i favori. E' stato citato nelle intercettazioni, anche come vedevamo dagli altri quotidiani, il ministro degli interni Alfano, che respinge ogni addebito parlando di uso delle intercettazioni, del riuso delle intercettazioni. Poi vedete la foto, studente americano ucciso e gettato nel Tevere. Come detto è stato fermato con l'accusa di omicidio un quarantenne romano. E poi le banche cadono, trattativa Italia-Unione Europea sugli aiuti di Stato. E siamo al quotidiano nel mattino di Napoli. Renzi chiama De Magistris, pronto a incontrarti subito se tu dialoghi su Bagnoli con il commissario. E poi la beffa di Brexit, Farage si dimette, si dimette l'esponente del partito di destra, che aveva fortemente voluto e poi esultato per l'esito proprio del referendum in Inghilterra. Andiamo avanti, siamo al quotidiano nel tempo di Roma. Vedete il Tevere della paura, la strage degli studenti. Con il giovane americano sono nove gli universitari ritrovati morti. Tra scomparse sospette, baracche, ubriachi e rifiuti, il fiume di Roma è diventato un incubo. E poi strage di Bologna, un cadavere è scomparso. C'è questo articolo che riguarda la strage di Bologna. E poi Alfano e gli 80 raccomandati. Si parla di questa inchiesta che riguarda proprio Roma e ha riguardato alcune persone indagate per presunti contatti con vertici politici italiani. E siamo al quotidiano libero. Silvio pensa alla salute. Berlusconi torna ad Arcore per la riabilitazione. Riunioni di lavoro vietate. E poi Forza Meloni, raccolgo firme per fermare le stragi. L'intregalismo islamico deve diventare reato. Vedete nella foto l'esponente di Fratelli d'Italia. Partita questa raccolta di firme. Andiamo ancora avanti. Il manifesto Calenda Scoppio. Questo è il titolo che gioca sempre un po' con il manifesto. Per la Francia la firma del TIP è impossibile entro la fine dell'amministrazione Obama. ma nello stesso giorno si decide per il trattato tra Unione Europea e Canada che sarà vagliato dai singoli parlamentari. Un successo delle mobilitazioni in tutto il mondo. E si parla proprio di questa vicenda che riguarda ovviamente molti stati europei. E poi, come dicevamo, la tragedia di Dhaka, rientrano le salme, cuoco ucciso nel blitz, per sbaglio, dalle forze di sicurezza del Bangladesh. Siamo all'unità, indovina chi dice sì. Grandi associazioni si schierano per le riforme da CNA, col diretti, da Confindustria alle Camere di Commercio. Si parla ovviamente del referendum di ottobre. Napolitano, saniamo le debolezze, dice il Presidente della Repubblica Emerito, di uno Stato fragile e con una instabilità cronica. Vedete poi anche sull'unità la foto che riguarda il rientro ieri a Roma delle esalme delle vittime dell'attentato di Dhaka. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, fuoco a 5 stelle su Alfano. Si parla di questa inchiesta di Roma, la replica del Ministro degli Interni, riuso politico degli scarti di un'inchiesta giudiziaria, dice Alfano. La consulta giustifica il prelievo di solidarietà poi sulle pensioni d'oro. Questo è il titolo ovviamente di un altro argomento. E poi vedete più in basso la nuova banconota da 50 euro. Sarà sicura, presentata in Pompamagna dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea. Ovviamente si lavora per combattere proprio i falsari e coloro che si sono specializzati nel fabbricare banconote false. Siamo al Gazzettino di Venezia, Ministeri e Tangenti, il caso Alfano, anche qui il titolo principale riguarda questa inchiesta di Roma. Dopo l'assunzione pilotata del fratello spuntano anche fondi al capo di gabinetto del Viminale. Siamo al quotidiano di Genova, il secolo XIX. Tego l'Alfano sul governo, il Ministro dice scarti giudiziari, non lascio. Marenzi teme per la tenuta del nuovo centrodestra. Siamo al quotidiano della CEI Avvenire, Siria basta armi, appello di Francesco, governo di unità nazionale, altre stragi ad Aleppo. Dai ribelli, abusi sui civili e poi anche su Avvenire, stretti alle vittime di Dacca. Ovviamente il ritorno delle salme, grande commozione ieri a Roma. L'osservatore romano, quotidiano della Santa Sede, come Avvenire, si parla di Siria, in Siria la pace è possibile. E poi un altro titolo di spalla, dialogo nonostante le violenze, dice proprio il quotidiano della Santa Sede. Lasciamo dunque i titoli dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Torniamo ai nostri giornali, passiamo al messaggero per andare a vedere l'inserto Abruzzo, per vedere le prime pagine proprio dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano, oggi in edicola ovviamente nella sua edizione locale. Vediamo la prima pagina, l'inferno delle scommesse, brucia risparmi e picchia la moglie per giocare ancora alla videolotteria. Il marito padrone è un pescarese di 62 anni, la polizia lo allontana da casa. E poi il professore vieta agli esami bermuda e infradito, decreto decoro anche all'università. E poi all'Aquila, Cialente, nell'inchiesta un parlamentare PD, si parla dell'inchiesta che coinvolge il sindaco dell'Aquila. Poi Ecomafia e rifiuti, Abruzzo scala la classifica nera di Lega Ambiente. Andiamo avanti, seconda pagina, ospedali più posti letto ma niente medici. Scoppia il caso Pescara, il piano di riorganizzazione, il santo spirito sale di livello, sospiri senza personale interventi e destinato ad esplodere. Poi prevenzione, aumentano gli screening, raddoppiato il numero degli utenti. E poi in basso, bus agenti per proteggere i controllori, tornelli contro i furbetti del ticket. Vediamo ora, andiamo a vedere insieme anche le pagine di cronaca regionale del centro. E poi tra poco, ovviamente, come sempre, intorno alle 7.20 parleremo di meteo con il nostro Giovanni De Palma. Prima pagina della cronaca Abruzzo del messaggero che riguarda le banche, in particolare Carichieti, al vertice arriva delle femmine, sostituisce Salvatore Immordino che diventa numero uno della Bad Bank Zacconi e vice direttore della banca Teatina. Vedete nella foto il nuovo amministratore delegato di Carichieti. E poi Industriale Sud, il miglior progetto, bando per la ricerca e lo sviluppo, massimo punteggio al gruppo diretto da Di Sante che produce interni per auto. E poi a fondo pagina, a fondo Valle Sangro, ok con prescrizioni, lo dice il comitato regionale via. E poi si parla di come mangiano i nostri figli in quest'altra pagina che riguarda proprio la cronaca regionale del centro. Come mangiano i nostri figli? Che dieta per i bimbi? Meno proteine, dicono i medici. In basso il rischio geologico va conosciuto. Ieri ad Isola del Gran Sasso c'è stato un importante convegno proprio sul rischio idrogeologico che riguarda anche la nostra regione. Tra i partecipanti il capo nazionale della protezione civile Fabrizio Curcio. Noi eravamo presenti ieri a Isola del Gran Sasso a San Gabriele per questo importante convegno. Andiamo a vedere il servizio. Con il capo della protezione civile qui oggi a San Gabriele si parla di prevenzione del rischio. In Abruzzo gran parte del territorio è a rischio idrogeologico. Il sistema nazionale si è dotato anche di una struttura di missione presso Palazzo Ghigi Italia Sicura. C'è il Ministero dell'Ambiente, c'è il Dipartimento che in questo senso collabora con le proprie competenze in questa valutazione. In Abruzzo mi sembra una regione attenta a queste problematiche, però chiaramente bisogna modulare bene l'utilizzo delle risorse e soprattutto lavorare anche per quello che compete il nostro sistema su quella che è la prevenzione non strutturale. Quindi conoscenza del rischio, diffusione dei buoni comportamenti nelle situazioni di emergenza e soprattutto evitare di fare errori strutturali come costruire laddove non si dovrebbe e quantomeno prenderne conoscenza laddove è già avvenuto. Si parla di emergenza anche perché sono mutate le condizioni climatiche nel nostro paese? Quelle rendono ancora più critico, già era critico il problema italiano perché per anni abbiamo fatto poco e certe volte anche male. Le criticità del cambiamento climatico aggravano la situazione. Abbiamo preso, ci vogliono dieci anni di impegno forte per portare questo paese in Europa davvero su questo punto di vista. Abbiamo impostato un piano da 7 miliardi in 7 anni e anche dall'Abruzzo abbiamo cominciato c'è un grossissimo intervento che facciamo su Pescara che dovrebbe andare in cantiere nei prossimi mesi e insomma abbiamo iniziato questo viaggio che durerà degli anni. Si parla oggi di prevenzione del rischio delle emergenze, Mazzocca un tema molto sentito su cui la regione Abruzzo ha investito risorse, uomini e tempo proprio per affrontare quelle che sono state le emergenze negli ultimi tempi. Su questo fronte noi insieme alle comunità locali abbiamo messo in campo un lavoro in mane con una dotazione progettuale davvero esecutiva che ci permette di essere attuali e intervenire velocemente. Purtroppo stiamo scontando un po' di ritardi che è accaduta, derivano dalla comunità europea dal governo centrale per alcuni vincoli che la stessa Bruxelles ha imposto alla struttura tecnica di missione. Questo è il servizio sul convegno di ieri, allora noi possiamo aprire la pagina del meteo come ogni mattina nel corso di mattino 6, abbiamo in collegamento il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, pieno mese di luglio, comunque siamo nella prima decade, il mese più caldo, il mese estivo per eccellenza, qualche capriccio però del tempo, c'è stato nei giorni scorsi, qualche capriccio probabilmente ci potrebbe essere anche nei prossimi giorni, cosa ci dobbiamo attendere? Eh sì Paolo, il luglio è il mese solitamente più stabile dell'anno, ma ovviamente ci può essere una fase di instabilità come quella che avremo nelle prossime ore, che sarà dovuta al passaggio di un impulso di aria fresca proveniente dalla Francia, complice il temporaneo cedimento di una vasta area di alta pressione che fino a ieri ha interessato la nostra penisola, quindi il passaggio di questo impulso di aria fresca favorirà un deciso aumento dell'instabilità sulla nostra regione a partire dalla tarda mattinata, ma ancor più nel pomeriggio sera darà luogo alla formazione di temporale a partire dalle zone interne montuose, quindi dall'Aquilano sulle zone montuose, in estensione poi con il passaggio delle ore, quindi nella seconda parte della giornata, verso le zone pedemontane e colinari che si affacciano sul versante adriatico, ma i fenomeni stavolta potrebbero estendersi anche lungo le aree costiere, non si escludono fenomeni intensi, Paolo è con possibilità di grandinate, in particolar modo sulla fascia pedecolinare, questa è la zona che sarà più a rischio di fenomeni più intensi nelle prossime ore, ma già da stanotte assisteremo comunque a un graduale miglioramento, un'attenuazione dell'instabilità che si attenerà ulteriormente sia nella giornata di giovedì, ma ancora più nei prossimi giorni, perché abbiamo parlato poco anzi di un temporaneo cedimento dell'alta pressione, di fatti l'alta pressione tornerà ad espandersi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola nei prossimi giorni, in particolar modo nel fine settimana e nei primi giorni della prossima settimana, favorendo anche un progressivo e generale aumento delle temperature sulla nostra regione, è probabile che ritornerà anche l'AFA, ma siamo nel mese di luglio e quindi queste situazioni sono nella norma, è chiaro che il caldo potrà essere più intenso rispetto a quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi, nelle scorse settimane e il caldo ci sarà soprattutto nei primi giorni della prossima settimana, poi è da vedere Paolo se questa situazione continuerà ad essere tale a manifestarsi, quindi ancora l'alta pressione, oppure è possibile, c'è un'ipotesi, un break temporalesco verso la metà del mese, ma si tratta soltanto di un'ipotesi questa da confermare nel corso dei prossimi giorni, quindi ricapitolando, nelle prossime ore ci saranno i temporali sulla nostra regione, potrebbero essere anche intensi a partire dalle zone interne, dall'Aquilano sulle zone montuose, in estensione poi nel corso del pomeriggio sera verso il settore orientale della nostra regione, da domani tempo in miglioramento e nei prossimi giorni tempo stabile con l'alta pressione e temperature in aumento. Paolo. Sperando dunque che l'AFA arrivi il più tardi possibile, io ringrazio Giovanni De Palma, grazie Giovanni, appuntamento con te sempre domani nel corso di Mattino 6, buona giornata, buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma come sempre per la puntualità nelle previsioni del tempo, vi ricordo gli strumenti che potete utilizzare e di cui potete servirvi per restare sempre aggiornati, il sito www.abruzzometeo.org che vedete ora puntualmente inquadrato e la pagina Facebook del nostro meteorologo, altro utile strumento anche per interagire con Giovanni De Palma e restare sempre aggiornati proprio sulle previsioni del tempo che riguardano la nostra regione. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo come sempre in studio per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, ripartiamo dal centro, pagina di cronaca provinciale, siamo a Pescara, botte alla moglie per le macchinette, maltrattamenti e minacce alla donna che si rifiutava di dare soldi al marito per giocare, ma lei si è rivolta alla polizia, l'ennesimo dramma della ludopatia e poi in basso il controllore aggredito Val Sitin dell'UGL e sciopero di 24 ore contro la tua che presenta il primo bilancio dopo la fusione con GTM e Sangritana, questo l'ennesimo episodio, l'ennesima aggressione e danni di un controllore della tua. Noi abbiamo ascoltato proprio questo sfortunato protagonista di questa aggressione, andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. In un mese e mezzo questa è la seconda aggressione, la tratta è quella Pescara Giulianova, questa è la conseguenza di aver chiesto a un passeggero il biglietto sopra un autobus. Quando sono arrivato all'altezza di questo ragazzo ho iniziato ad alzare la voce, urlandomi addosso di tutto, allora l'ho invitato a fornirmi un documento per l'identificazione, anche se stili un verbale che poi va perso perché non hanno niente, non hanno niente su cui appoggiarti. Mi ha minacciato dicendomi che la seconda volta che chiamavo i carabinieri per lui, la terza mi avrebbe ammazzato. Io lo invitai molto educatamente, come faccio con tutti, a scendere dal pullman e a quel punto ho visto che mi stava per sferrare questo pugno. Siccome mi sono reso conto della situazione riuscii a evitarlo parzialmente e mi prese sul setto nasale la fronte, poi gli presi la mano per non farmi colpire di nuovo, però con l'altra mano mi ha preso uno schiaffo, una botta. Qual è il vostro appello? Perché questo non è un caso isolato. Daterci un po' più di copertura perché noi siamo gente che la mattina si alza per andare al lavoro, non per fare a botte o non per fare una guerra in tringea. L'azienda dice che ha fatto questo incontro con le prefetture che ci garantiscono assistenza, che ci garantiscono quello che vogliono dire loro, ma noi da settembre che io faccio questo lavoro insieme al collega non abbiamo nessuna assistenza. Noi quando chiamiamo i carabinieri spesse volte non vengono, quando chiamiamo la polizia non viene per niente. Spesse volte quando intervengono invece di identificare questo ragazzo che comunque ci ha minacciato e roba varia, facendogli a meno una parte, mettendogli un po' di timore addosso, identificano a noi, chiedono i documenti solo a noi che li abbiamo chiamati. Andiamo avanti, il mercato etnico è troppo costoso, il centrodestra boccia il progetto dell'amministrazione, annuncia battaglia per fermare i lavori nel sottopasso e poi Piazza Musi scade il servizio di vigilanza per la Movida in centro a Pescara e poi il Comune vuole assumere 19 lavoratori stagionali, servono vigiurbani e operai da impiegare nel settore manutenzioni dell'ente e poi l'avvertenza di attiva, il giudice fa slittare la decisione sugli ex interinali, vedete l'articolo di Spalla qui sulle pagine del quotidiano il centro e poi addetti alla sicurezza, contratti violati, dipendenti del servizio di portierato del Comune scrivono al Sindaco via la ditta, vincitrice dell'appalto e poi in basso via i controlli sui bus per Francavilla, l'azienda replica le proteste degli utenti per i mezzi stracolmi. Ancora cronaca di Pescara, il pescarese alle Olimpiadi con il Settebello, parliamo di Pallanuoto, di Francesco Di Fulvio che riparte dall'Enaia di Arrio con Pescara nel cuore, Francesco Di Fulvio giocatore della Nazionale Italiana proprio di Pallanuoto che parteciperà alle Olimpiadi fuoriclasse in questa disciplina, tra l'altro figlio d'arte perché il papà è stato giocatore della Sisley, Pescara si racconta in questo articolo e poi in basso fu un'ambolica edizione da record, il bilancio con il tutto esaurito per ognuna delle 15 serate del Festival del Circo e poi ancora Pallanuoto, piccoli pallanuotisti crescono, anche gli atleti pescaresi della bauava di Lignano Sabbiadoro hanno partecipato a questa manifestazione di Lignano Sabbiadoro ottenendo risultati esaltanti. Ancora Pescara, Ponte Nuovo lavori da ultimare entro cinque mesi, l'impegno della giunta Alessandrini a pochi mesi dall'anniversario per i 90 anni della fusione tra Castellammare e Pescara, poi sede dei Vigili del Fuoco sfratto rinviato da Viale Pindaro dove si trova il comando provinciale proprio dei Vigili del Fuoco e poi Casa Ail, parliamo di soli ed arietà, abbiamo accolto 363 malati di leucemia in sette anni, il centro di Via Rigopiano ha ospitato anche i familiari le testimonianze dei pazienti. Siamo alla pagina di Montesilvano, sempre dal centro, dieci ragazze salvate in sei mesi dal racket della prostituzione, funziona l'accordo tra la giunta Maragno e la comunità Papa Giovanni XXIII contro lo sfruttamento sessuale, poi in alto cronaca, attenta il furto in chiesa a Montesilvano, arrestato 31enne di Pinedo, poi stazioni proibite di Sabili, troppe scale e niente ascensore, parliamo della stazione ferroviaria di Montesilvano, per questo è stato chiesto un confronto con Rete Ferrovia Italia e con Trenitalia e poi ancora cronaca in basso, turista muore nella piscina dell'hotel, malore fulminante per un 68enne di Sesto San Giovanni, inutili i tentativi di rianimarlo. Siamo ancora alle pagine della provincia di Pescara e dell'area metropolitana, in questo caso a Francavilla al mare, rapina e rogo nella notte, in tre assaltano un bar per pochi euro, è accaduto proprio a Francavilla e poi a Spoltore i terreni sono del comune, nessuna imposta è dovuta, il sindaco di Lorito ribatte a Febo sul caso Arca e poi Francavilla torna nei percorsi di sera da domani fino al 28 agosto a Cepagatti, stop alla lottizzazione selvaggia. Siamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Var Pescara, partiamo da Penne, in vendita l'ex carcere ed il mattatoio, l'amministrazione comunale per fare cassa, inserisce nel piano delle dismissioni alcune delle opere rimaste incompiute. E poi Manoppello, arboreto aperto di notte ai bimbi, sabato sera evento con l'astrofilo per osservare le stelle, poi Popoli, i giorni felici di Beckett, spettacolo in programma il 24 luglio e poi Santa Eufemia Maiella in centro per il risico più grande del mondo. Siamo alla pagina di Chieti del centro, la legionella si estende a tutti i reparti, nuovo allarme rosso, parte la bonifica, niente acqua in ospedale da oggi a venerdì, il sindaco di Primio dice ma l'acquedotto pubblico è indenne. E poi assunzioni facili di Giuseppe Antonio, l'ex giunta, assolti, cronaca, ad Ortona il trattore gli si ribalta addosso, grave 75enne proprio di Ortona per questo incidente accaduto nel centro e provincia di Chieti. E poi Paglione, ferie forzate per 50 dipendenti alla vigilia della decisione del giudice fallimentare, restano chiusi i cancelli degli autosaloni. Dalla pagina di Chieti a quella dell'Aquila, sempre dal centro, in questo caso siamo in Marsica, ad Avezzano, spacca una porta e ferisce negoziante, denunciato 46enne di Tagliacozzo, ancora Avezzano, gli atti non sono in arabo, udienza rinviata a novembre ad Avezzano proprio per questa problematica, Sulmona da vittima diventa imputato, estorsione, ha fatto la denuncia, Matace in aula e finisce nei guai. E poi a Trasacco, donna trovata morta nel bagno di casa, 44enne riversa accanto alla vasca a scoprire il corpo privo di vita. E' stato il figlio. Andiamo avanti, pagina di Teramo, per quanto riguarda sempre le pagine del centro, secondo verdose in un mese, ucciso dalla droga, era agli arresti a casa, la vittima è un 35enne, stava scontando una pena per rapina. E poi nasconde 150 grammi di eroina in auto, un uomo di Silvi, arrestato a Giulianova. E poi ancora una morte in mare, in questa estate, turista, in questa estate è caratterizzata purtroppo già da alcune tragedie, proprio a causa di annegamenti. Il turista aquilano muore mentre fa il bagno, è accaduto a Roseto degli Abruzzi. La vittima è un 87enne dell'Aquila, stroncato da malore. E poi siamo a Teramo, incidente in Piazza Garibaldi, un altro investito sulle strisce. Poi la Coppa Interamina, grande sfilata, applausi ai 3.000 del corteo, composto da atleti e accompagnatori. Vedremo poi delle immagini su questa cerimonia inaugurale. Lasciamo le pagine del centro, andiamo a vedere quelle insieme del messaggero, ripartendo sempre dalla cronaca di Pescara e come per il centro, anche sul messaggero, l'apertura per quanto concerne il capoluogo adriatico riguarda la cronaca. Botte alla moglie per la videolotteri, un calvario lungo 16 anni per una donna e per il figlio, ostaggi di un padre padrone, schiavo del gioco d'azzardo. E poi c'è l'intervista allo psicologo che dice fermatevi prima di perdere il controllo. Poi caso attiva a fondo pagina del Bianco dal giudice, il direttore generale sarà ascoltato nella prossima udienza. I ricorsi sono 70 e poi si parla del nuovo mercatino per gli extracomunitari. In morale investire sul mercatino, lo dicono, compatte le opposizioni, dunque il centro-destra al comune di Pescara. Poi via Pisa, Moschia sotto controllo, la questura rafforza il monitoraggio del centro culturale di via Pisa, frequentato dalla comunità islamica cittadina. E poi tragedia, Grandotella Montesilvano stroncato da un malore in piscina. E poi bollette e servizi, parte il tour di Eni. E poi andiamo in Val Pescara, volantini in piazza per bussi, condanna. Per il sindaco, manifestazione non autorizzata. Un mese e dieci giorni per la gatta. Il presidente del comitato civico sotto accusa per la protesta di dicembre scorso. Abbiamo fatto quello che gli agenti ci hanno detto, ha spiegato il primo cittadino di bussi. E poi a fondo pagina, Fantasma e Roma, la rassegna di film fa tappa stasera in Piazza Colonna, proprio nella prestigiosa piazza della capitale. E poi bus, biciclette e pedoni, piano traffico allo studio, per quanto riguarda proprio il comune di Pescara. Siamo alla pagina dell'area metropolitana, rapine e spari, notte da far west a Francavilla. E poi la storia ritrovata, premi e negozi storici, la festa di Montesilvano. E poi la crociata, dieci ragazze salvate dal marciapiede a Montesilvano. Grazie a questa collaborazione tra l'amministrazione comunale e la comunità Papa Giovanni XXIII. E poi il circo conquista tutti, funambolica, fa il boom di presenze. Siamo alla pagina dell'Aquila, del messaggero. Pressioni sul funzionario dopo aver ricevuto il parlamentare PD. Le ragioni della procura ed il mancato incontro con l'avvocato Egidio Rossi. Fondi invece destinati alla ditta Palomar, che si sarebbe fatta raccomandare a Roma. Il sindaco Cialente, un dipendente municipale, sono sotto inchiesta per i lavori della ricostruzione. E poi troppi soldi per riparare casa, settantenne a processo. Siamo sempre all'Aquila, sempre all'Aquila. Dirigenti comunali CGL all'attacco, troppi soldi. E poi pensionato si sente male, muore in spiaggia a Roseto. Era proprio un pensionato dell'Aquila. E poi il verdetto, asportazione di utero sotto esame. La procura nomina due esperti per valutare se si sia trattato di errore medico oppure no. Ancora un'altra pagina, la seconda di L'Aquila, per quanto riguarda il messaggero. Erba alta al cimitero, rispetto per chi deve visitare i defunti. E poi banca dati post-sisma, diventa una realtà. Neochirurgia, Galzio dice, tagli, ho applicato le norme. E poi agenzia delle entrate, Roberto Egidi, nuovo direttore regionale. E poi il premio Benedetto Croce, svelati vincitori. Tra loro Corrado Augias e il caso Armeno. E poi, sempre per quanto riguarda il comune dell'Aquila, si sblocca la pratica per i 28 interinali. E siamo alla pagina di Avezzano Sulmona. A Celano, fiammi in ascensore, pazienti evacuati. È successo all'Immacolata. E poi Sulmona, ancora droga dal fucino, scatta un altro arresto. E poi abbandona il banco dei testimoni. Non credo alla giustizia. Sempre a Sulmona, diocesi a rischio, insorge la comunità. La protesta si allarga, ma il rischio, ridimensionamento, è assai preoccupante. Comunità, ovviamente, che fa capo alla diocesi di Sulmona. E poi ancora Sulmona, la Di Marzio, presidente del Consiglio, battuta la concorrenza di Pantaleo e Santilli dopo il vertice con la Casini. Ovviamente parliamo di politica e della presidenza del Consiglio Comunale. Poi Trasacco muore dopo giorni dall'incidente. C'è l'autopsia. E poi allarme del CAM ad Avezzano. Manca l'acqua. No agli sprechi. E siamo alla pagina di Chieti del messaggero. Gli ex vilapini contro la curatela. Non risponde. Siamo senza soldi. E poi Carichieti cambia il vertice delle femmine e il nuovo amministratore delegato. E poi inseguimento in autostrada. Un ladro d'auto finisce in manette. Poi in basso provincia. Assoluzione piena per l'ex giunta di Giuseppe Antonio. E siamo alla pagina di Lanciano Vastortona. Corruzione alla ASL. C'è un altro indagato. Siamo a Lanciano. Sempre a Lanciano. Far West in tribunale. In manette. Una donna tedesca. San Salvo. Spaccio nella villa comunale. Arrestato un trentenne. Andiamo in basso. Vasto. Isola Pedonale si parte. Gli operatoni però mugugnano. E Ortona il canile di via Massari. A rischio chiusura. Infine Casoli. Cade dall'impercatura. Grave. Anziano. E poi Ortona. Incidente agricolo. ricoverato un agricoltore di Ortona in gravi condizioni all'ospedale di Pescara. E siamo alla pagina di Teramo del messaggero teatro. Errore mastodontico del comune sulla procedura. Ermanno Fasano. Titolare della Solti. Si sfoga dopo l'affidamento congelato. In arrivo una nuova procedura. E spunta un altro concorrente. Poi Cronaca. Muore a 35 anni. Vittima di overdose. Anziano investito mentre attraversa la strada. A piazza Garibaldi. E poi crack milionario. Nessun riscontro. Per Tancredi il legale difensore Gennaro Lettieri dice non esiste alcun elemento fattuale rispetto alle accuse. Siamo a Giulianova. Collina in fiamme. Caccia al Piromane. In Val Vibrata litiga in casa. 14enne precipita dal balcone ad Alba Adriatica. La ragazzina trasferita al Mazzini. E in gravi condizioni. E poi di Girolamo monocolore PD che spiazza l'alleato Amo Roseto. E a proposito di Roseto, quella di oggi è una giornata importante proprio per la città rivierasca. Perché verrà resa nota la giunta dal sindaco Sabatino di Girolamo che noi siamo andati ad ascoltare. Sindaco di Girolamo, al lavoro per la nuova giunta ormai è questione di ore. La nuova giunta sarà presentata domani alle 11 nel Palazzo Municipale. E ora, 9 sabato, ci sarà il Consiglio Comunale Solenne dove giurerò e presenterò le linee programmatiche e presenterò anche la nuova giunta. Roseto, siamo in piena estate, ovviamente si parla di turismo. Quali sono le urgenze, i primi provvedimenti che prenderà il nuovo sindaco di Roseto degli Abruzzi? C'è la necessità di stare in comune, di continuo, perché ce ne sono tante. La prima cosa è la manutenzione della città, presentarci il più possibile bene, per quel poco che si può fare in 15 giorni, presentarci il più possibile belli ai turisti. La stagione sta per entrare nel vivo, state pensando a qualcosa di particolare proprio per attrarre ancora più presenze anche dalle altre parti della regione? Noi quest'anno abbiamo trovato delle iniziative già programmate dalla vecchia giunta e non abbiamo avuto il tempo materiale di innovare. Quindi avremo Roseto per la prima, avremo la mostra dei vini, avremo la sciabica, la pesca con la sciabica e avremo delle iniziative collaterali organizzate dalle associazioni, dalle palestre, dalle scuole di danza. Però non abbiamo avuto la materiale possibilità di programmare qualcosa di originale. Dunque attesa per la nuova giunta di Roseto degli Abruzzi, noi prima di parlare di sport siamo alle pagine del quotidiano La Città di Teramo, vediamo la prima pagina, carabinieri nella moschea all'aperto. Teramo, la preghiera del Ramadan disturba il corso di formazione, scatta l'intolleranza. Poi vedete la foto a centro pagina, aperta al mondo, la classica sfilata della 44esima Coppa Interamina che si è svolta ieri sera a Teramo. Andiamo avanti, Abruzzo, allarme turismo, mazzocca, replica alla CNA, il sottosegretario dice la regione ha investito 170 milioni per l'adeguamento del sistema di depurazione. E poi in basso fallimento di Villapini, gli ex lavoratori vogliono essere pagati. Quindi proseguiamo, Coppa Interamina, ecco qui proprio la pagina dedicata a questa manifestazione. Abbiamo delle immagini che abbiamo girato proprio ieri sera in occasione della manifestazione inaugurale, saltata per motivi burocratici la squadra multietnica dell'Unité, dell'Università di Teramo, quella dell'Algeria e dell'Iran, ma grande festa, ieri sera con un percorso differente, ma sempre con lo stesso calore, la grande parata. Delle squadre ha aperto ieri sera la 44esima edizione della Coppa Interamnia, anticipata dagli sbandieratori della giostra cavalleresca di Sulmone, dal nuovo spettacolo della Compagnia dei Folli. L'incanto, la sfilata degli atleti e dei gruppi per i lavori di rifacimento di Corso San Giorgio, ha subito quest'anno la modifica del percorso, ma ha mantenuto intatto il suo fascino della cornice del centro storico Teramano. Vedete quanta gente, partenza dunque da Porta Madonna e Corso De Michetti per proseguire su Corso Cerulli, Piazza Orsini, Via della Verdura, fino all'ingresso in Piazza Martiri della Libertà, con canti, balli e gag che hanno accompagnato l'intero percorso. Assente ieri sera a Teramo il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball, l'avvocato Francesco Purromuto, che ha rimandato ad oggi la sua presenza in città per visitare i campi di gioco e per salutare il presidente della Coppa, Pierluigi Montauti, le delegazioni e gli atleti stranieri presenti a Teramo. Per l'evento dunque, la grande festa della Coppa in Teramini, andiamo avanti con le altre pagine del quotidiano La Città di Teramo. chiamano i carabinieri per la Moschia d'Aperto, isteria culturale, la preghiera alla D'Alessandro disturba il corso di formazione, momenti di tensione e di incomprensione. Poi, carenza idrica, caldo eccessivo, il ruzzo invita a ridurre al massimo gli sprechi d'acqua. E' davvero un invito che non possiamo non accogliere di questi tempi, quando l'acqua è davvero un bene prezioso. E poi, salute, il camper dello screening mammografico, Fatappa, a colle, atterrato. Andiamo avanti, cronaca di Teramo, overdose fatale, nonostante gli arresti domiciliari, muore un 35enne di Teramo. E poi, Ateneo, l'Università di Teramo patrocina la conferenza di Vienna sul cibo sicuro. E poi, trasporti, Teramo leader per le nuove immatricolazioni di autobus. Ancora Teramo, ancora cronaca, anziano investito sull'attraversamento killer in Piazza Garibaldi. Grave un 85enne, centrato da una Fiat 500. E poi, viabilità, comune incapaci di trovare una soluzione alternativa efficace. Cozzi, neosessore al traffico, cade dalle nuvole e dice che bisognerebbe usare il sottopasso. Dunque, polemiche per il problema traffico a Teramo. E poi, siamo al crack della Curti di Pietro. Assolto, Carmine Tancredi e tutti i commercialisti, nelle motivazioni della sentenza bis sulla bancarotta milionaria, lo scontro dialettico sulla natura del consulente professionista. Andiamo ancora avanti, pagine della provincia. Curcio promuove la regione per la lotta al dissesto, presente ieri a Isola del Gran Sasso, il capo della Protezione Civile Nazionale, che abbiamo ascoltato nell'intervista, che vi abbiamo proposto nella prima parte di Mattino 6. E poi, ancora avanti, siamo in Val Vibrata, a Nereto. Di Felice, il comune non paga i vigili, ma ha i soldi per la sorella del sindaco. L'ex vice sindaco di Nereto rincara la polemica nei confronti di Di Flavio. E poi, contoguerra, torna ad essere la capitale del vino. Quattro giorni di feste da domani a domenica. E poi, litiga con i genitori e si lascia cadere dal balcone di casa. È accaduto ad Albadriatica, grave. Una quattordicenne ricoverata al Mazzini di Teremo. E poi Civitella, Duccio, questa sera alla festa di Contrada Favale. Ancora cronaca, Giulianova, le fiamme minacciano lo splendore, brucia la collina a nord di Giulianova. E poi, sanità, Francesco Mastromauro dice che la sanità è a rischio paralisi. Poi, nel corso dei nostri rigivi, proporremo proprio l'intervista con il primo cittadino di Giulianova, Francesco Mastromauro. Andiamo avanti. Siamo a Roseto, di Girolamo prepara una giunta monocolore. Oggi l'annuncio della nuova squadra. Abbiamo ascoltato qualche istante fa il primo cittadino di Roseto. E poi 11.000 fedeli hanno partecipato a Roseto, al congresso dei testimoni di Geova. Atri, Abruzzo Civico, protesta, ma i lavori lungo le strade sono cominciati. Il vicepresidente della provincia, Barbara Ferretti, risponde così alle accuse. Pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi, muore per un malore mentre fa il bagno. La vittima a Roseto è un turista aquilano di 87 anni. Poi, Pineto e Silvi, le spiagge più gettonate della costa, secondo un'inchiesta. E poi, Pineto, raggiunto l'accordo per il passaggio dei bus in centro città. Siamo alla pagina della cultura, tutta la verità della vita a rovescio, con il suo terzo romanzo. Simona Baldelli conferma le sue doti di narratrice. Arriviamo alla pagina dello sport. Giornata calda sull'asse Teramo-Pescara. Ultimi dettagli per la cessione di Alessandro Di Paolo Antonio. Si attende la risposta di Sansovini, che potrebbe essere dunque il nuovo attaccante del Teramo. E poi, Serie D, Epifani resta a San Nicolò, arriva a Napolano. Oggi dovrebbe essere ufficializzato il prolungamento con il tecnico. E la società mette a segno il primo colpo, proprio con l'arrivo di Napolano. L'articolo del nostro collega della redazione, Jacopo Forcella. E a proposito di sport, andiamo a vedere le pagine dello sport del centro e poi del messaggero. Ripartiamo dal centro, ovviamente, per vedere in particolare i titoli che riguardano le nostre formazioni. Avevamo visto nella prima pagina del centro, edizione di Pescara, la notizia che riguarda l'arrivo in casa bianca azzurra del 19enne attaccante albanese Manai. Un giocatore di sicura prospettiva. Allora, vediamo le pagine dello sport dal centro. Pescara è fatta per Manai, l'attaccante arriva dall'Inter. Piace anche l'argentino Simeone, figlio del Ciolo. E poi in basso il Celtavigo sarà l'avversario nella prima amichevole. Confermata dunque l'anticipazione dei giorni scorsi. Si giocherà il 6 agosto allo Stadio Adriatico, nel giorno della presentazione della squadra. L'amichevole tra Pescara e la formazione iberica del Celtavigo. Campagna abbonamenti a gonfie vele. In due giorni staccati, 754 tagliandi. E poi ancora calcio. Si parla del Pescara, parla l'ex bianca azzurro Campone che nell'ultima stagione ha allenato il Bari. E dice Pescara, l'uomo giusto è Boaci. E poi Serie B, il mercato, il Verona su Gans, Cerri a Brescia. Andiamo avanti. Lega Pro, Imaio lasciano. Lanciano a Candeloro o al Sindaco. Giorni e ore decisive per il futuro del calcio rosso-nero. L'imprenditore Candeloro entro oggi deciderà se prendere la società. In caso contrario per la Virtus, dopo otto anni di cui 4 DB sarà la fine tra i professionisti. E poi Teramo, filo diretto con il Pescara, sempre più fitta la collaborazione tra Campitelli e Sebastiani. In ballo tanti giovani. E poi Morgia, il progetto L'Aquila mi ha affascinato. Voglio vincere. È stato presentato ieri il nuovo allenatore dell'Aquila, Massimo Morgia, che andiamo ad ascoltare. Dopo 9 anni che mi ero detto di restare nel circondario della Toscana, ho ripreso a girare. Lo faccio con grandissimo entusiasmo e grandissima voglia perché conoscevo qua il direttore sportivo che è Alessandro Battisti, che è stato mio ex giocatore, che ha i miei stessi valori, i miei stessi principi, nella mia stessa visione del calcio e della vita. Quindi ho trovato una società che mi ha impressionato. Mi hanno fatto visitare lo stadio nuovo dove andremo a giocare, che è senza barriere. che è una cosa spettacolare perché credo che dovrebbe essere obbligatorio in Italia avere tutti i stadi senza barriere. Quindi sono tre cose che mi hanno spinto. In più l'Aquila ha un fascino particolare per il fatto che ho letto la sua storia, le sue cose. È una città che è stata martoriata e quindi è in un periodo di ricrescita e di ricostruzione. Mi sembrava la persona giusta per ricostruire. Non ho ambizioni di carriera alla mia età né di arricchirmi con il calcio. Mi piacciono le cose passionali e mi sono buttato dentro con l'entusiasmo che magari non avevo da tempo, soprattutto in visione di una ricostruzione che comincia da oggi. Noi restiamo in serie D per parlare del Chieti. Chieti, irrusione ultra. Ieri durante la conferenza stampa contestato Pomponi, il padrone del DS Mutalipassi, abbandonano la conferenza di presentazione della società e meditano l'addio. Vi avevamo proposto ieri anche il servizio di Andrea Costantini su questa animata conferenza stampa. Siamo al messaggero per vedere anche in questo caso le pagine dello sport dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano oggi in edicolo. Ovviamente anche sul messaggero spazio al mercato per quanto riguarda le nostre formazioni e formazioni abruzzesi. Soprattutto il Pescara molto attivo, come abbiamo visto, è vicina. La soluzione positiva per quanto riguarda una trattativa di mercato con l'Inter per l'arrivo del giovane albanese Manai, 19 anni, giocatore di cui si dice un gran bene che dunque potrebbe essere tesserato nei prossimi giorni, nelle prossime ore dal Pescara. Pescara anche su Simeone Junior, trattativa avviata per l'attaccante argentino del River Plate. E poi il giovane Nicastro si presenta, se là si dice voglio la nazionale. E poi ancora Pescara, mercato con Ghiomber e Stendardo, spunta anche Diachite. E poi Lanciano, ore decisive per salvare la Virtus. Morgia si presenta, ricostruiamo insieme. Abbiamo ascoltato pochi istanti fa il neo allenatore della formazione Rosso Blu. Teramo, ore decisive per l'ingaggio di Marco Sansovini. E poi Ramadan e polemiche, partita l'Interami, abbiamo visto le immagini della cerimonia inaugurale. Poi ancora serie D, primi colpi della Vastese, presi Galizia e Nocerino. E poi Chieti, irruzione ultra in sala stampa. Pomponi, dura contestazione, ancora serie D. Epifani resta al San Nicolò. La punta napolano per la formazione teramana. Abbiamo il tempo per vedere proprio pochi istanti i titoli dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola per quanto riguarda proprio lo sport. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Silvio ha deciso, cinesi sì, dunque svolta storica per il Milan. In alto Raduno Juve, ecco Di Bala e Pjanic, Mu vuole Pogba, Tormenti Inter, mal di pancia del tecnico Mancini. Siamo al Corriere dello Sport, 400 milioni per un grande Milan dopo 30 anni e 28 trofei. Berlusconi si fa da parte. In alto Mancini furioso, ombre sul futuro. E poi Juve e Napoli, riparte oggi la super sfida. E poi gli europei, Ronaldo contro il Galles per conquistare Parigi, Galles-Portogallo una delle semifinali. Chiudiamo con tutto sport. I campioni ripartono oggi. Si parla della Juventus. In alto Sprint, Ilaic, Jack per quanto riguarda il Torino. E poi Berlusconi vende, ma mettete, 400 milioni nel Milan, dice l'ormai quasi ex patron. E con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Siamo giunti al termine dell'appuntamento del 6 luglio con Mattino 6. Grazie, come sempre, per la vostra cortese attenzione. Vi ricordo il prossimo appuntamento informativo nella giornata di oggi per la nostra emittente. Alle 14, la prima edizione del TG6. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.